Il decreto Alfano sulle misure di contrasto alla violenza durante le manifestazioni sportive è troppo punitivo. Non sempre, appena più gravi, corrisponde una giusta prevenzione. E' quanto emerso al termine dell'audizione informale del presidente della FIGI Città Vecchio e del Bari, Paparesta, davanti alle commissioni riunite a fare i costituzionali giustizia della Camera, che stanno esaminando il provvedimento prima di convertirlo in legge. E' facile chiudere una curva, però se uno non può andare a vedere Roma-Napoli, perché il tifoso, pur avendo la testa della sportiva, che non so perché ce l'ha a questo punto, viene classificato come un soggetto pericoloso, questi sono provvedimenti gravi. Meglio invece colpire la conivenza società ultra o insistere con la lotta alle frodi sportive? Sicuramente non va bene il DASPO di gruppo, meglio puntare sulla prevenzione. Si corre il rischio che vengano colpiti come sono stati colpiti nell'ultima occasione anche tifosi che hanno seguito la squadra e che la loro sfortuna è stata di trovarsi insieme con altri che invece faccino rosi, che è giusto punire, è giusto reprimere questa violenza quando si verifica, non generalizzare una punizione. Credo che ci voglia la prevenzione, le società debbono poter intervenire con dei modelli di comportamento, con dei contatti con le tifoserie, controllando, dialogando, con dei presidi, magari con dei metal detector, per esempio, agli ingressi degli stadi. Bene, la società che investe in questo non dovrebbe rispondere di responsabilità oggettiva, oppure dovrebbe vedere molto mitigata la sanzione che deriva la società solo per il comportamento dei propri tifosi.